Ho pagato una tangente alla missione e una all'orfanotrofio, ho pagato un tizio ad Istanbul per il biglietto, ho versato una tangente al responsabile del servizio immigrazione di New York, ho dato denaro sotto banco a tutti, chiedo alla ragazza della foto e me ne inviano un'altra, lei lo sapeva che noi siamo sposati Seta, sposati per procura da tre mesi, questo lei lo sapeva. Perché sono senza testa signor Tomasian? Seta! Voglio raccontarvi la storia di due di loro, il signore e la signora Tomasian. Ma come mai gli armeni sono tutti orfanelli? Sì che lo posso dire, ho un marito che è un cadavere, vive in una bara e ha riposto tutto il suo dolore in una fotografia. E ho pianto, Seta, ho pianto, nel rivedere i volti della mia famiglia, vivi nel rivelatore, vivi Seta, vivi!